Grazie a tutti. 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 Abbiamo detto che il bravo diportista non è quello che ha la barca più grande ma è quello che ha la consapevolezza dei propri limiti e quella della propria imbarcazione, quello che rispetta il mare, che vive il mare e che magari vive il mare in sicurezza. In ogni caso, nella sua carta, oltre ai simboli della guardia costiera e della regola navale, abbiamo voluto richiamare anche il logo del numero blu 1530, che è un numero che gratuitamente consente anche attraverso il telefono cellulare di contattare la sala operativa più vicina alla chiamata di emergenza. Questo dovrebbe garantire, qualora ce ne dovesse essere bisogno, un rapido e tempestivo intervento da parte dei mezzi della guardia costiera.